Eccoci, siamo qui dove? Che posto bello, sta qui, che posto bello, spalle larghe, una presentatrice come si conviene, che si chiama? Carmen. Carmen, Carmen di dov'è? San Benedetto. Carmen adesso ti insegno una cosa molto bella, Carmen mangia tanta pizza, vero ragazzi? Carmen mangia tanta pizza e quando finisce di mangiare la pizza la carta dove la butta? Nell'indifferenziale. Perché la butta è indifferenziata? Perché la carta è unta. Perché è unta, qualora non fosse unta? Nella carta. Nella carta, visto che alla fine si imparano queste cose, allora fate un applauso a Carmen dicendo che siamo all'istituto? Fazzini Mercantini di Ripatranzone. Di Ripatranzone, e tu invece sei di San Benedetto del Trotto, fidanzata con? Marco. Con Marco, dov'è Marco? All'università. Ah, roba grossa allora, lo raggiungeremo presto con questi del quinto, applauso, andiamo a giocare. Grazie a tutti.